Salve ragazzi, oggi farò un video un po' particolare praticamente parlerò dei fumetti che ho letto dall'inizio 2023 fino ad oggi almeno credo quelli che ho letto sicuramente qualcosa lascerò mi dispiace se questi giorni non ho fatto i video sugli acquisti della settimana perché la settimana scorsa erano troppi pochi fumetti e ho deciso di saltarla questa settimana purtroppo ho avuto un problema su un dente del giudizio e non sono potuto uscire in questi giorni quindi anche adesso sono in fase di recupero intanto però vi voglio anche dire che vi ringrazio siamo arrivati a 506 iscritti sono ancora pochi però sto vedendo che comunque qualcuno mi segue che a qualcuno piace quello che dico ho iniziato a lasciare sotto in descrizione una wishlist di oggettini presi da Amazon se qualcuno volesse farmi qualche regalino e se qualcuno mi vuole sostenere perché attualmente ovviamente il canale non è redditizio quindi vi sarei molto grato se mi sostenete e se vi iscrivete allora iniziamo direttamente con il primo fumetto di cui vi parlerò che ho letto è The Crater di Osamu Tezuka fumetto che ho letto la settimana scorsa anzi questa settimana qui fumetto che recensirò con tutta probabilità settimana prossima se non ho problemi che dire io sono tutte storie autoconclusive io non sono un grande appassato di storie autoconclusive ma questo The Crater è probabilmente uno dei migliori fumetti con storie autoconclusive di Tezuka forse il migliore che ho letto è uno dei migliori in generale sono tutte storie quasi tutte di fantascienza un po' horror molto interessanti mi è piaciuto molto un gran bel fumetto 20 euro della J-pop nella Osamushi collection bella insomma non me lo aspettavo sinceramente in realtà era tre volumi all'inizio ma adesso in Italia hanno fatto un volume unico comunque un volume fumetto uscito tra il 69 e il 70 una raccolta di di storie scritte tra il 69 e il 70 il secondo fumetto che ho letto è Bentornato Alice fumetto che ho fatto la recensione che vi lascerò in descrizione sette numeri è idato da Panini anche lui di Shuto Oshimi buon manga ve l'ho già detto con qualche difetto ma tutto sommato un buon manga disegni stratosferici una lettura piacevole su una tematica importante che attualmente è molto sotto i riflettori ecco poi terzo fumetto che ho letto in questo lasso di tempo adesso questi inizialmente che vi dico sono tutti fumetti che ho letto ultimamente l'Orore di Dunwich tre numeri edito da J-pop fumetto che è un adattamento di Kota Nabe dell'omonimo racconto di Lovecraft l'Orore di Dunwich mi è piaciuto moltissimo ve l'ho già detto credo che sia uno dei migliori adattamenti dei migliori storie sicuramente di Lovecraft ma questo non sono io a dirlo bella edizione mi piace poi l'edizione che fa la J-pop diciamo di Kota Nabe di questa serie qui è veramente molto bella ve lo consiglio gran bella lettura come sempre poi sotto vi lascio in descrizione la recensione poi siamo in undici Motoacio fumetto del 1975 edito questo pure no questo da Star Comics in un volume unico di pessima qualità un po' vecchiotto questo già avevo detto un volume Motoacio è molto importante come fumettista per la storia dell'evoluzione del fumetto Shoujo e Yohei in Giappone Sammin undici è diviso in due parti la prima parte è molto bella la seconda parte è un po' meno quindi diciamo che è un fumetto tutto sommato sufficiente che può essere un buon inizio per andare a leggere una diciamo una prima opera di Motoacio poi passiamo a Ganywall fumetto edito da Ikari 13 numeri di Masaki Ninomiya il suo debutto uscito dal 2018 al 2021 gran bel fumetto non ho tutti in realtà ho sentito che è piaciuto a me è piaciuto moltissimo soprattutto perché di questo genere qui diciamo horror thriller poliziesco senza intromissioni fantastiche o sovrannaturali se ne sono pochi mi è piaciuto molto gran bella lettura disegni pro e contro ve lo avevo già detti molto buoni per certi versi pessimi per altri pessimi confusionari più che pessimi però tutto sommato un gran bel fumetto mi è piaciuto veramente molto in realtà ho letto delle ottime cose in questo in questo anno poi serie successiva creatura arcane 13 numeri di Satoshi Mizukami edito da flashbook io ho una passione per l'edizione della flashbook di brutto è un fumetto che ha devutazioni altissime medie a me non è piaciuto un gran che è uno shonen abbastanza lineare senza grosse prese un buon fumetto dal disegno di Mizukami che passa dal banale all'ottimo è un suo stile peculiare diciamo mi aspettavo di più soprattutto perché Mizukami ha fatto degli altri fumetti più più intricati e più interessanti questa è una storia abbastanza semplice è un ragazzo che cerca di diventare una sorta di demone diciamo perché odia gli esseri umani e invece c'è un demone o comunque uno spirito volpe che vorrebbe diventare un umano perché odia odia comunque preferisce gli esseri umani e poi succedono cose vengono fuori i personaggi il fumetto è diviso in due parti diverse la prima parte e la seconda molto distinte comunque non una lettura pessima ma nemmeno eccezionale il fumetto successivo il giovane Yoshio fumetto di Yoshiharu Tsuge della Canicola Edizioni è un fumetto che è uscito se non sbaglio sono delle raccolte di storie degli anni 70 se non sbaglio ma poi comunque lo vedrete nella recensione che anche questo ho recensito bellissimo gran bel fumetto questo mi è piaciuto molto uno specchio del quel periodo del Giappone soprattutto diciamo del dopoguerra e sono tutte storie quindi non una in particolare tutte storie di personaggi che vengono più o meno sopraffatti o sfruttati da persone o dalla società di quel periodo poi Giro Taniuchi ho letto con uno zoo d'inverno che questo l'ho recensito bellissimo Rizzoli è l'edizione non un granché tra l'altro lettura all'occidentale però comunque con Taniuchi ci potrebbe stare perché lui è quasi più famoso all'estero che in Giappone fumetto autobiografico in cui parla dei primi passi nel mondo del fumetto sostanzialmente so con certezza che è un fumetto autobiografico ci sono sicuramente delle parti aggiunte ma molto di quello che dice è successo veramente a Giro Taniuchi gran bel fumetto vi consiglio di recuperarlo se vi piace da Giro Taniuchi poi altro fumetto che ho recensito il viaggio di Shuna il secondo manga l'unico altro secondo manga che ha fatto a Yao Miyazaki fumetto molto interessante e molto importante perché scritto nel 1982 prima dell'uscita di Nausicaa e di tutti gli altri film tipo Labuta eccetera eccetera e leggendolo vi renderete conto che effettivamente la base di Nausicaa sta qui è un fumetto in realtà è tratto da una leggenda da una fiaba tibetana e parla di un ragazzo che parte per una terra lontana alla ricerca dei semi di grano che porterebbe prosperità nuova al suo villaggio che invece se la passa veramente male l'edizione è molto bella è della Bao con sovracoperto scusate cartonato molto bello il fumetto mi è piaciuto cioè nel senso non è un capolavoro però è bello e soprattutto ci sono delle tavole che sono tutte a colori e in acquarello tra l'altro non è proprio un fumetto nel senso che sembrano delle didascalie più che delle balloon sui personaggi poi andiamo avanti perché sono parecchi Drifting Net Cafe fumetto di Shuzo Shimi sette numeri edito da Goen è uscito tra il 2009 e il 2011 ve l'ho già detto questo è parlato più volte di questo fumetto molto importante per Shimi perché il cambiamento di Shimi dal fumetto di Hachi soprattutto a quelli più introspettivi questo già è una via di mezzo anche nel disegno comincia a fare delle modifiche non come attualmente come per esempio su Ben Tornato Alice però comunque già si inizia a vedere qualcosa di diverso il fumetto non è eccezionale parla di un ragazzo che è sposato la moglie è incinta ma c'è qualcosa in lui che non lo fa star bene e nel momento in cui entra in un Net Cafe e incontra la sua vecchissima cao vecchissima fiamma delle medie addirittura si ritrova in un lampo in un mondo completamente desertico in cui la sopravvivenza è l'unica cosa e tutti i problemi affioreranno in realtà il personaggio lui il protagonista Koichi è ben realizzato ma il contorno secondo me è quasi pessimo in certi punti comunque fumetto importante per Oshimi anche se non sicuramente uno dei migliori di Oshimi poi passiamo a 20th century voice allora qui 20th century voice ovviamente io ho letto l'avevo già letto nell'edizione quella vecchia che era dei primi anni del 2000 credo poi ho venduto la serie e ho ricomprato la serie nuova uscita da Panini in edizione iper lusso forse una delle edizioni migliori che abbia mai visto in generale l'ho riletto in uscita e quindi l'anno scorso in realtà non ho letto tutto ma ho letto tre numeri tra cui 21 io ho sempre avuto un debole per 20th century voice pur ammettendo che il fumetto ha dei problemi soffre di alcuni problemi simili a quelli che ha avuto Evangelion io sono sempre stato contro i finali forzati nel senso che 20th century voice doveva avere un certo finale Urasawa l'aveva pensato con un tot finale e poi è stato modificato a forza tant'è che da quello che so ha preso spunto per il 21 anche dalla serie tv la mini serie tv o comunque dai tre film non mini serie tv dai tre film che sono usciti che avevano un finale diverso in realtà poi per chi ha letto Urasawa sa che lui vuole vuole altri tipi di finali non gli piacciono i finali quelli netti bianco o nero quindi si nota per esempio con Billy Butt cosa voleva fare in 20th century voice ma non ci è riuscito probabilmente perché era un fumetto talmente complesso che ci si è incartato un pochettino anche lui detto questo 20th century voice io l'ho sempre ritenuto uno dei primi probabilmente 5 o 6 fumetti più belli che abbia mai letto ve lo straconsiglio recuperatelo per forza praticamente anche perché nessuno secondo me forse è in grado di tenere ingollato il lettore come Urfaura Sawa con continui colpi di scena poi poi passiamo avanti andiamo a parlare di Ping Pong allora purtroppo tra virgoletti avevo già visto l'anime e quindi ho deciso di recuperare il fumetto di Taiyo Matsumoto che io adoro ho purtroppo letto e acquistato la versione il box praticamente della 001 edizioni che costava uno sproposito erano 5 numeri e poi dopo purtroppo l'ha fatta la J-pop una versione molto più bella che costava meno però io ho quella lì mentre il fumetto quando si parla di un fumetto tra l'altro il fumetto uscita dal 96 e dal 97 quindi è anche un po' vecchietto quando si parla di Ping Pong è difficile pensare che qualcosa che parla di Ping Pong possa essere bello e invece Ping Pong è un cavolavoro ha voti molti più alti l'anime perché Yuasa è bravo a fare le inquadrature particolari ma su modo ragazzi è uno dei migliori mangaka negli ultimi 30 anni senza ombra di dubbio recuperate Ping Pong perché la versione della J-pop costa poco se non sbaglio tipo una 35 di euro non vorrei dire una sciocchezza e 36 euro esatto recuperatelo perché è un fumettone non vi voglio spoilerare niente poi dopo magari lo andrete a vedere fumetto composto da 5 numeri almeno le edizioni che avevo io J-pop dovrebbe essere 3 numeri poi altro fumetto recensito è l'ultimo viaggio delle ragazze fumettone ragazzi fumettone fumetto di Tsukumizu uscito dal 2014 al 2018 in 6 volumi edito da Goel in Italia in una bellissima edizione sovraccoperta non lucida ma di carta bellissima tipo carta spessa molto bella l'edizione un fumetto veramente bello post apocalittico che parla del viaggio di due ragazze in un mondo che non conoscono e soprattutto vedono tutto quello che vedono sono tecnologie che non conoscono perché loro sono vissute cresciute in un ambiente completamente straneo e sembrano forse non le uniche sopravvissute ma una delle poche sopravvissute nel loro viaggio incontreranno personaggi e cose soprattutto in un mondo deserto con megalopoli abbandonate e freddo soprattutto un gran bel fumetto molto introspettivo molto bello si legge molto bene della giusta lunghezza un capolavoro poi andiamo avanti altro fumetto che ho recensito Planet of the Fools di otto numeri di composto da otto numeri di Rocky Endo uscito dal 2019 al 2022 ve l'ho detto fumetto che è clamorosamente un peccato non era in realtà così brutto non era eccezionale ma non era nemmeno così brutto c'era una parte centrale in cui il fumetto stava diventando interessante e poi è finito ma il brutto non è che è finito ragazzi ma è che non c'ha una fine non è finito il fumetto è proprio aperto non c'è un fine non esiste il finale è un peccato perché io capisco che magari non era in nessun modo preparato per il finale Endo perché secondo me questo qui era un fumetto da una ventina di numeri però lasciarlo così aperto ragazzi è veramente terribile quindi ve lo sconsiglio perché in realtà non sarebbe nemmeno così brutto il fumetto ma senza un finale pessimo edito da Panini poi altro fumetto che ho letto ma ovviamente non tutti ma 5 numero ho letto l'anno scorso ed è Blackjack quindi l'anno scorso a quest'anno altro fumetto che ho recensito questo ho deciso di leggerlo nell'uscita perché comunque è difficile leggere Blackjack sono tutte storie autoconclusive tante storie autoconclusive di Blackjack che è un medico dallo straordinario talento senza licenza che va operando in situazioni molto particolari le storie sono tutte molto interessanti un pochettino sullo stile The Crater che vi ho detto prima il fumetto è un capolavoro assoluto senza se senza ma però non è facile da leggere l'edizione della J-pop è clamorosa la Usamushi tutta argentata ragazzi è un capolavoro costosa perché sono parecchi numeri non vi dico di no comunque un fumetto di quelli che se siete dei grossi appassionati di manga secondo me dovreste leggere nonostante il costo poi altro fumetto che ho recensito che è Kaijin Gao di Shindaro Kago un folle spero che conosciate Shindaro Kago edito da Ikari questo numero unico e praticamente è un fumetto che questo fumetto qui parla di collezionismo quindi Kago qui sta a criticare il collezionismo perché comunque se conoscete Kago Kago è un folle che rappresenta la società in maniera molto estrema e critica diversi aspetti della società odierna e passata ma o a volte con la società passata critica l'odierna in questo caso critica le collezioni e il collezionismo e la mania che c'è dietro la follia a volte che si arriva a avere dietro al collezionismo non uno dei migliori di Kago ma un bel fumetto secondo me l'immortale 30 numeri in realtà io ho letto la versione quella da 15 numeri doppia edizione della Panini fumetto di Hiroaki Samuro uscito dal 93 al 2012 quindi c'è stato parecchio per uscire mi è piaciuto sì non allora se voi vedete delle votazioni online sembra uno dei migliori fumetti tutti i tempi in realtà ha dei difetti secondo me questo fumetto che vi ho detto nella recensione prima cosa il disegno è molto bello ma disegna le donne tutte uguali e si fa grossa confusione e ci sono delle cose alcuni avvenimenti che tolgono un pochettino di credibilità alla storia cioè nel senso se siamo in un contesto nonostante la la parte fantasy tra virgolette fantastica del fatto che mangi sia un immortale grazie a questi vermi che all'interno il resto è quindi realistico e quindi quando poi si va avanti con la storia e iniziano a succedere cose tipo che con un fendente si taglia una persona sul tronco ed un albero comincio a dissentire questo e non mi è piaciuta molto questa cosa qui però detto questo il fumetto è molto 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 bello è uno dei migliori fumetti sui samurai coletto non il migliore però è un gran bel fumetto e molto moderno nonostante che comunque ha i suoi 12 anni ma se pensiamo da quando è uscito sono 30 anni e insomma sono parecchi sono in realtà poi poi andiamo avanti il prossimo volume che se non sbaglio anche questo ho recensito che ho letto è Love di disegni di Kamimura e storia di Sadao Nakajima uscito nel 73 quindi una delle prime opere di Kamimura gran bel volume unico poi ragazzi ve l'avevo già detto ho visto anche una mostra che aveva allestito la Coconino a Ravenna in cui c'erano le tavole originale un'emozione senza senza pari fumetto che parla di storia che parla di una ragazza in cerca del del vero amore lei è convinta che al mondo esiste la sua metà perché una leggenda greca narra che prima gli esseri umani erano fusi insieme e avevano sia organi maschili e femminili insieme e poi sono stati indivisi perché erano troppo potenti e quindi queste metà esistono vanno solo trovate e quindi è lei alla ricerca di questa metà ma la troverà e soprattutto nel momento in cui pensa di averla trovata sarà veramente quello come pensa lei il fumetto è bello crudo come tutti i fumetti di Kamimura disegni clamorosi belle edizione della Coconino che li fa con cartonati molto molto belli poi il prossimo coletto è stato un recupero un fumettino niente male si chiama Canon sei numeri usciti dal 95 al 97 di Chio Saito è carino un bello scioccio di una ragazza che suona il violino che sta in Mongolia conosce un talentuoso compositore che poi se la porta dietro in Giappone poi scoprirà che in realtà lei non era mongola ma era giapponese e sono diverse storie in cui lei si innamora molto interessante mi è piaciuto è uno scioccio non banale un stile un po' vecchio diciamo si vede molto quello stile anni 90 però è un bel fumetto edito da Star Comics volumetti vecchissimi ragazzi usciti più di 20 anni fa però non male come lettore a me è piaciuto mi è piaciuto abbastanza poi altro fumetto coletto Soft Metal Vampire di 6 numeri di Rocky Endo tra l'altro stessa cosa che ho detto di Planet of the Fools come se vedo online come recensione come voti medi è più alto di Soft Metal Vampire ma secondo me è peggio di Planet of the Fools Planet of the Fools ha qualcosa in più ha qualcosa in più da dire potrebbe dire qualcosa in più Soft Metal Vampire no è brutto secondo me è uscito dal 2016 al 2018 è un fumetto che anche questo è troncato e anche se non fosse stato troncato comunque non sarebbe stato molto bello vampiri con mischiati con il controllo della materia cosa un po' particolare secondo me troppo pretenziosa non è così bello secondo me come fumetto e come storia invece già Planet of the Fools è sicuramente un pochettino meglio c'è un po' più di c'è qualcosa in più nella storia nel personaggio qui un pochettino meno poi andiamo avanti a Edito da Panini questo Duranchi ho letto Duranchi il volume unico di di Kentaro Miura che poi non ha scritto tutto Miura storia è stata una collaborazione tra Kentaro Miura e lo studio Gaga fumetto che è uscito dal 2019 2020 quindi abbastanza recente com'è Duranchi è come leggere Gigantomachia insomma è un fumetto che se non l'avesse fatto sarebbe stato meglio io capisco che Miura aveva delle idee ma se poi fai delle idee e le porti avanti ok ma non la porta avanti non l'ha mai portata avanti nessuno porterà avanti Duranchi quindi Duranchi è un fumetto interessante ambientato in questo mondo fantastico con questo bambino ermafrodita diciamo che avete messo tra un bambino maschio e femmina molto interessante è considerato interrotto ma in realtà la storia è quella che è non ve lo consiglio semplicemente perché la storia sarebbe anche interessante però buttata così ha poco senso io l'ho recuperata perché comunque Miura mi piace e quindi l'ho recuperata e poi i suoi disegni sono molto belli e anche qui già si vede che c'è lo studio caga di mezzo poi ho comprato un fumettone o scusate ho letto La mia vita in barca fumetto di Tadau Tsuke la casa editrice ragazzi adesso non me la ricordo se non me la ricordo perché dovrebbe essere una casa editrice che non ho mai visto tipo qua su Anime Click mi dice White Shupan ma sinceramente non sono sicuro fumetto di una bellezza incredibile parla di quest'uomo a un certo punto della sua vita è un scrittore abbastanza famoso inizia a andare spesso in barca per andare a pescare addirittura quasi a viverci lasciando dietro la famiglia praticamente abbandonando quasi la famiglia che tra l'altro hanno un negozio da gestire e quindi il fumetto parla di tutte le le padurnie i problemi di quest'uomo tutto quello che si incanara nella sua mente un gran bel fumetto introspettivo ungekika d'autore Tsuke non non sbaglia quasi mai poi ho letto anche Banana Fish Banana Fish io non ho recensito di Akimi Yoshida ho recuperato l'edizione quella nuova in dieci numeri della Panini molto bella fumetto considerato molto a me non è piaciuto moltissimo e non perché magari qualcuno può dire che c'è di mezzo che ne so troppa violenza troppo sesso oppure perché c'è una relazione omosessuale no ma perché il fumetto ha dei problemi nel senso che la storia in realtà dopo pochissimo già la sapete e da quello alla fine è sempre quella è sempre un rincorrersi dietro io rapisco questo poi lo vado a liberare poi rapisco quello e lo vado a liberare il personaggio è un tut dalizio alla fine non fanno nient'altro che dire che sto ragazzo è un fenomeno sto ragazzo è clamoroso eccetera eccetera alla terza del logico di questo ragazzo dall'inizio alla fine dall'inizio alla fine diventa noioso Ash si chiama diventa noioso tedioso molto spesso lui diventa una sorta di supereroe ammazza tutti spara tutti non lo so è un bel fumetto per carità la storia è carina però troppo lungo troppe troppe cose non è nemmeno così intricata la storia veramente dopo pochissimo già sapete tutto quindi non lo so non mi è piaciuto così tanto secondo me poteva mi aspettavo molto di più la banana fish sicuramente mi aspettavo una storia più intricata da scoprire invece no non c'è nulla da scoprire comunque banana fish poi ho letto berserk ovviamente un numero solo tra l'altro un sottiletta numero 82 io quasi me lo salterei berserk ho letto un numero solo ho parlato di berserk se vi ricordate nello speciale 5 fumetti che secondo me si evolvono male non dico che berserk sia un brutto fumetto berserk è un capolavoro ma ha dei difetti è inutile negarli secondo me li ha poi dopo addirittura qualcuno dice che la seconda parte è più bella della prima secondo me è una bestemmia clamorosa perché berserk è nato in quella maniera e si è sviluppato in una certa maniera naturalmente poi la seconda parte chi non ammette che sia figlia del successo di berserk non capisce nulla di fumetti comunque detto questo l'ultimo numero era interessante anzi ci sono state delle svolte clamorose solo che si è fermata un'altra volta vabbè finirà prima o poi poi un altro numero che ho letto però qui in realtà è un mea colpa è City Hunter ho comprato l'edizione quella XYZ della Panini super top edizione ho letto un numero solo ragazzi se non sbaglio sono 10 numeri lo devo continuare a leggere non ci ho avuto molto il coraggio io non lo metto in dubbio che sia un bellissimo fumetto i segni di Tsukasa oggi sono bellissimi fumetto uscito dall'85 al 91 però è pesante mi è rimasto un po' pesante da leggere anche perché sono 550 pagine quei numeri lì e non è così facile da leggere probabilmente adesso quest'anno forse lo continuerò ci aggiorneremo poi in futuro per City Hunter poi altro fumetto che ho letto recensito è La Principessa del Castello Senza Fine ve l'ho già detto fumetto di Shintaro Kago uno dei migliori di Shintaro Kago bellissimo tra l'altro sperimentazione anche nei disegni nelle vignette come sono fatte in parte tronche solo a livello teorico è un capolavoro vi consiglio di recuperarlo è uno dei migliori fumetti di Kago quindi e non è nemmeno troppo estremo è estremo ma non troppo e fa una critica alla società e alle ancora adesso alle classi che ci sono nella società moderna e non solo quello dice anche che fondamentalmente la classe diciamo politica cambia poco chi sta su fa più o meno le stesse cose anche se ci fossero dei ribaltamenti se la storia fosse andata in maniera diversa comunque probabilmente sarebbe andato tutto quasi nella stessa maniera gran bel fumetto poi andiamo avanti Dragon Ball Super Dragon Ball Super ho letto 5 numeri adesso tra l'altro Dragon Ball Super è in pausa a tempo indeterminato come se Toriyama partecipasse alla scrittura di Dragon Ball Super secondo me non ci credo mai secondo me era di Toyotaro al 100% il fumetto non è un granché l'ho comprato perché si chiama Dragon Ball ma non ve lo consiglio anzi non l'ho comprato Dragon Ball Super è bruttissimo è bruttissimo è brutto non è non c'ha nulla di Dragon Ball quasi troppo veloce troppe saghe non c'è veramente niente dietro di Dragon Ball e non c'è proprio appeal mentre lo leggete non c'è nulla che vi stimoli 5 numero ho letto quest'anno Dragon Ball Super edito da Star Comics ovviamente in proseguo al numero 22 poi altro fumetto ho letto bellissimo è stato Hitler di Shigeru Mizuki del 1971 un fumetto bellissimo Mizuki fa dei disegni ragazzi senza senso bellissimo è la storia di Hitler vera senza invenzioni o comunque con pochi adattamenti quindi un fumetto storico Mizuki era appassionato di storia ma ve lo fa vedere in una maniera spettacolare è straconziato a tutti perché vi fa capire e ci fa capire uno come era uno dei personaggi più importanti della storia dell'umanità e come una nazione è arrivata a compiere quello che ha fatto ascoltando un pazzo che ha cercato di sterminare una una popolazione bellissimo fumetto poi ho letto un altro fumetto bellissimo è il diario della mia scomparsa di Ideo Azuma che è il lo scrittore di Pollon che tra l'altro è morto fumetto molto toccante perché parla di quest'uomo che è scappato di casa due volte è proprio fuggito di casa non riusciva più a sopportare il peso del della casa della famiglia del lavoro e quindi lui prendeva e scappava di casa gran bel fumetto è molto toccante vi fa vedere quello che lui faceva nonostante che lo butta in maniera ironica quello che lui faceva quando scappava però ragazzi alcune parti sono diciamo vi racconta proprio quello che faceva uno a uno tipo il muratore però vi fa capire che che pesantezza che che insomma che devono sopportare a volte queste persone e che quando non ci si riesce l'unica cosa è scappare gran bel fumetto è tutto da c-pop è una edizione abbastanza carina a parte c-pop fa solo edizioni belle poi ho letto Yuuza la nuvola vagabonda ragazzi fumetto che non è un granché di Missile Kakurai questo ha solo senso se vi piace un pochettino approfondire le tematiche di Kenshiro se è appassionato di Kenshiro volete sapere un po' questo personaggio con l'altro che ruolo ha avuto allora in quel caso Yuuza è un buon fumetto quindi vi approfondisce quel lato lì però non è un granché a livello di disegni tra l'altro se non sbaglio questo autore ha fatto praticamente solo questo e non è nemmeno un granché la storia però in realtà la cosa più problematica è il disegno che non mi è piaciuto per niente però in realtà nel mondo che ne ci sta sono due numeri soli è un qualcosa in più poi ho letto la leggenda di Arslan due soli numeri perché in realtà ha rallentato è di Hiromu Aragawa che è l'autrice di Fulme dell'Alchemist però in realtà la storia non è la sua ma di Yoshiki Tanaga perché è tratto da un light novel molti numeri sono usciti già 20 numeri è un storico fantasy nel senso ambientazione fantastica c'è un po' di fantasy ma non molto nel senso che il fantasy c'è rimane sempre lì sotto nell'angolo sapete che c'è ma non fa quasi nulla sta caricando teoricamente piano piano la parte finale il fumetto però pezzo che va avanti un po' troppo lungo secondo me in realtà non è brutto è carino la storia a me piace ma troppo lungo e parla di questo ragazzo ered al trono ma forse no che ha un padre che non gliene frega niente di lui e che perdono la battaglia e perdono l'impero e poi cercano di riconquistarlo piano piano non male vi ripeto troppo lungo secondo me dovevano darci un taglio poi l'Horn Wolf and Cub ragazzi ho letto sette numeri sono andando avanti piano piano non vi faccio spoiler poi questo farò la recensione poi mi sono rimasti cinque numeri quindi sono oltre la metà fumetto clamoroso non c'è nessun'altra parola di Kazuo Koike la storia Ego Seki Kojima i disegni i disegni senza senso per adesso è sicuramente il fumetto di Samurai il più bello che abbia mai letto però poi dopo aspettiamo fu uscito dal 70 al 76 io ho l'edizione quella della panini quella gigante che è uscita con i quattro cofanetti poi ragazzi ve ne parlerò più avanti adesso nessuno spoiler vi dico solamente che è un super fumetto poi ho letto Mix di Mitsuru Adachi Mix ho letto due numeri che sono quelli usciti nel 2023 Mix è il seguito di Touch diversi anni dopo 26 anni dopo il fumetto è carino però diciamo che Adachi ha fatto il problema di Adachi è che ha fatto molti fumetti simili e a volte alcune storie sono non ve le ricordate sostanzialmente quindi un fumetto come questo che a sal numero 21 ha una storia che somiglia a quella di H2 o di Touch di altri che ha già fatto è carino a me piace perché tutti i fumetti di Adachi mi piacciono però non è sicuramente il suo migliore detto questo è un buon fumetto esiste anche una versione animata che è niente male poi ragazzi ho letto One Piece 6 numeri quelli usciti l'anno scorso io leggo le ristampe bianche dovrei essere se non sbaglio al 104 quindi ho letto dal 98 al 104 non vorrei parlare di One Piece salto direttamente e vedremo poi come prosegue la storia più avanti e spero che nel giro di qualche anno termini elto da Star Comics poi ho letto One Punch Man anche qui sono tre numeri quelli usciti l'anno scorso cioè in questo anno anno e tre mesi secondo me One Punch Man si sta rovinando l'ho sempre detto è un ottimo fumetto ma non è più quello dell'inizio quindi attualmente sta proseguendo perché deve proseguire però io spero che prima o poi non troppo poi abbia una fine attualmente non si capisce forse sta verso la fine ma forse no potrebbe continuare in qualunque modo quindi non so io spero che prima o poi One e Murata gli trovino una conclusione a questo fumetto senza trascinarlo troppo perché comunque è del 2012 sono già 12 anni che va avanti poi altro fumetto che ho letto è Tekken King Crattelizio della c-pop con il super tomo clamorosa fumetto di Matsumoto quest'anno ho recuperato diverse cose di Matsumoto questo pure ragazzi un fumettone questo per esempio l'avevo visto l'anime non mi era piaciuto molti anni fa non ero pronto troppo piccolo ho riletto il fumetto e mi è piaciuto molti questi ragazzi Shiro e Kuro quindi bianco e nero sarebbe che sono diciamo implicati con di Yakuza e combattimenti di quartiere ma poi dopo c'è proprio di mezzo bianco e nero proprio l'animo dei ragazzi Shiro è stupido ma puro Kuro invece intelligente ma oscuro gran bel fumetto mi è piaciuto molto è molto bella l'edizione veramente molto bella poi ho letto Uchukyodai i fratelli nello spazio tre numeri allora questo secondo me sta verso la fine siamo arrivati al numero 43 addirittura uno dei migliori fumetti che leggo in assoluto sta andando un po' troppo per e lunga secondo me sta in corso dal 2007 quindi io gli darei una conclusione ma in realtà il problema è che è sempre bello lo leggete questo ogni numero che leggete è bello potrebbe andare avanti forse all'infinito l'autore Chuyakoyama che tra l'altro credo che abbia fatto praticamente solo questo quasi mi viene naturale oramai questo fumetto quindi molto bello veramente bello non so quando finirà credo che sia verso la fine però grosso modo secondo me in qualche anno dovrebbe finire penultimo fumetto che ho letto è Zankyo Riverbero in un'edizione della Dainit fumetto di Tsutomu Takashi non so se lo conoscete quello che ha fatto Sido oppure Detonation Island o Tetsu Anger ha fatto un sacco di cose a me piace molto molto bello un fumetto abbastanza particolare con questo ragazzo che si veste da donna cioè di mezzo la la yakuza molto bello un gran bel fumetto mi è piaciuto parecchio sono stato molto felice di averlo comprato e letto e che Tsutomu Takashi difficilmente tradisce tra l'altro ho letto ho comprato altre cose prima o poi le leggerò sue e mi piacerebbe recuperare Detonation Island ma è quasi impossibile ultimo fumetto ragazzi ultimo fumetto che ho letto in questo anno e mezzo è Children of the Whale che sto leggendo attualmente sono al numero 10 ho letto 9 numeri non vi faccio spoiler questo pure l'ho iniziato perché è finito proprio quest'anno mi sta piacendo parecchio fino adesso forse ci sono il problema fondamentale è che ci sono tante parole un mondo fantasy completamente inventato con tante parole che un attimino si fa fatica a stare dietro ogni fazione ha le sue leggende dei si sta un po' dietro difficilmente però per adesso è abbastanza è bello e i segni anche mi piacciono credo di aver detto tutto sono credo che sono tutti fumetti coletto probabilmente qualcosa mi sarò dimenticato di mettere perché non posso ricordarmi tutto quello coletto in questo anno e mezzo anche perché sono fumetti che non ho cioè sono fumetti che non ho recensito perché a quel tempo non le facevo recensioni di manga nel mio canale quindi sono andato un po' a tastoni in questo anno e mezzo considerate 15 mesi ho letto circa 166 volumi tanti o pochi non lo so se fate un conto sarà un fumetto ogni 4 giorni grosso modo ognuno ai suoi tempi a volte sono fumetti che ho letto più velocemente altri un pochettino meno forse ogni 3 3 giorni e mezzo comunque ragazzi io spero che il video è stato lungo ma spero che vi sia piaciuto i fumetti non li potete mettere qua perché erano 160 credo che era impossibile vi ringrazio per la visione ci vediamo per il prossimo video scusatemi se questo video è stato un po' troppo lungo ciao ragazzi